Ha preso il via questa mattina davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila l'udienza riguardante l'inchiesta denominata Housework su presunte tangenti negli appalti pubblici al comune di Pescara, che il 15 dicembre 2008 portò all'arresto dell'attuale governatore abruzzese Luciano D'Alfonso, all'epoca dei fatti, sindaco del capoluogo adriatico, del suo ex braccio destro Guido Dezio e dell'imprenditore Massimo De Cesaris. In primo grado la vicenda si concluse con l'assoluzione di tutti e 24 gli imputati. Il ricorso però riguarda la posizione di D'Alfonso e di altre 17 persone. Il procuratore generale Ettore Picardi oggi ha chiesto l'assoluzione per tutti gli imputati relativamente alla maggior parte dei capi di imputazione oggetto del ricorso. Per sei accuse ha invece chiesto la prescrizione. Solo per Dezio, inoltre, ha chiesto una condanna di due anni e sei mesi relativamente però al reato contestato al capo B, cioè tentata concussione. Da questa accusa riguardante la gestione del bar del tribunale di Pescara, Dezio era stato assolto in primo grado. La prossima udienza si terrà il 30 marzo e in quella occasione è prevista anche la sentenza.